Sì, da subito! Sì, da subito! Sì, da subito! Sì, da subito! E' un futuro verso gli altri, un futuro nel quale Torino, il Piemonte... Le manifestazioni di interesse non sono un fatto risolutivo, ma semplicemente un'opzione temporanea. Noi vogliamo, come tutti ben sapete, che quest'opera prosegua, non si fermi e quindi vogliamo ribadire il nostro sì-tav subito. E anzi, i bandi devono partire subito. Sergio, Sergio! E tanto ancora! Oggi abbiamo deciso di tornare per le... Il centro-destra con Cirio non ha voluto scendere in piazza. Che segnale può dare? Dal segnale delle contraddizioni del governo stesso e del fatto che non siano davvero dalla parte dei cittadini e dalla parte della realizzazione dell'opera. Chiamparino qui viene, tutto il centro-sinistra è presente, tutto un mondo è presente a continuare a sostenere quest'opera. Mi sembrano gli unici che hanno le idee chiare sull'argomento e che non hanno dubbi o tentennamenti in merito. Ragazze, studenti, lavoratrici, lavoratori, operai... Tanti altri partiti, anche in forma non esplicita, saranno presenti, come del resto, in tutte le nostre piazze sempre. Perché, come noi ribadiamo, le infrastrutture sono di tutti. La firma sul trattato per quanto riguarda la via della Seta parla chiaro perché la TAV è parte integrante di quella via. Quindi oggi ribadiamo la nostra posizione che è a favore di quest'opera, che è un'opera fondamentale. Siamo qui, posso dire, in maniera storica con le associazioni datoriali nuovamente, con tante altre associazioni di categoria, con la società civile, con i nostri lavoratori. Proprio per ribadire l'importanza di questa opera, che non è un'opera voluta solamente da qualcuno, ma che la vuole tutta la società civile. Dai lavoratori alle associazioni datoriali, ai sindacati, alla società civile. Vuol dire collegare il nord col sud, vuol dire costruire un futuro alle nuove generazioni.